Benvenuti ragazzi, bentornati in questo fantastico nuovo episodio del guest rank su Rainbow Six Siege Dopo 4 anni e mezzo di non uscita siamo tornati Un bel mi piace, un commento, un'iscrizione, vi ricordate faccio coaching privato se volete migliorare con me su Rainbow Six Siege Mi iscrivete in privato su Instagram per avere tutta l'info e qua c'è la chat di Twitch che vi sta salutando perché noi facciamo tutto in live su Twitch Quindi in caso vi aspetto ogni pomeriggio dalle 15 in poi tranne domenica Inoltre per inviarmi tutte le clip, ragazzi, basta andare in descrizione, c'è il sito, lo aprite, caricate la clip, seguite tutti i passaggi Cos'è che non accetto? Devono essere solo clip ranked, non ci deve essere il ciondolo sull'arma Né lo sfondo rank, cioè il ciondolo sull'arma del rank, ok? Cioè se c'è un altro ciondolo cretino lo potete comunque, vi potete comunque mandare la clip Per quanto riguarda il rank, né il ciondolo né lo sfondo del giocatore, ok? Deve essere ranked, mi dovete andare a scrivere il rank che avevate in quella clip esatta, ok? Se no noi rifiutiamo E ora andiamo col video Allora ragazzi, ci siamo, questa è la prima clip Let's go Ci siamo Allora Prima clip Siamo su PC, ovviamente si capisce dalla velocità Ok Allora, la mira c'è Sì, la velocità c'è Questo ragazzo è bravo Si capisce che comunque ha esperienza Ha già un patto dove? Bisogna solo capire, ovviamente noi stiamo vedendo Raga, il replay di uno, eh Sì, di questo qua Jäger C'è la rotation? Ok Ma sono insana, sto rondo, sono stata insana Spoilt Poi è una ragazza, vi ho detto ragazzo, non lo so Comunque Eh, ragazza, ragazzo, non lo so Fatemi sapere Non lo so ragazzi, oh, dalla voce È una ragazza Non lo so, può essere ragazza o ragazza Ma noi Che cazzo ce ne fotte Im, her, she, her Dei, dem WWE, RGB LQQQQQ Moco Ho appena letto la marca del carica Telefonino Che cazzo ce si possono identificare Pure come un albero Ma noi Che cazzo ce ne fotte Solo il rank Costa Conta Bravi Bravi Quindi vaffanculo Così Allora Cominciamo La clip Dem È una buona mira Ottima reattività A volte fa quella cazzata che io odio di over inclinarsi Cioè fa troppo l'inclinazione Pure se non gli serve Ok, fa un cazzurico che c'è gli spasmi sulla spalla Che ogni tanto gli dà la spalla Pure se non gli serve Ok, sta cosa è una cazzata Ti fa solo sentire Però vabbè, se ti piace così Fatti la grippa così Però sinceramente ragazzi è molto forte Io metterei diamante Sinceramente ragazzi io andrei per buona la prima Diamante, boom Champion Va bene, mi ero tenuto un po' bassino Non volevo andare subito sul champion Ok, ci sta comunque La mira, la velocità c'era Quindi accetto Va bene, sono terzo Dai, diamante comunque noi 500 ragazzi Li abbiamo io incati Sti gran cazzi Allora, andiamo subito Alla prossima Comunque grazie mille Per il Per la clip O Sì Vabbè, non ho letto il Chi me l'ha inviata Comunque ragazzi mille Un bacino Go next Allora 1v5 Noi ci mettiamo Sopra per il rank Perfetto Allora, siamo con polls 1v5 Già ci prospetta Questo 1v5 Così Sta cercando I giocatori Per la mappa Ma nessuno Abbattiti Sono dei cazzo Di vampiri Ok Oh Castle Ci ha appena fatto cagare addosso Your castle Castle Ok Eccolo Di nuovo Con candy crash Vuole fare il Quattromillesimo livello Deve superare La vecchietta Al piano sopra C4 Ripiazzato Lo fa scoppiare Male male L'ho missa Cardiac sensor deployed Sì Cadillac sensor deployed Sì Dopo quello O cardinale Come cazzo Va bene Sta controllando le bottiglie Ci sono tutte 11 Nessuno si è fottuto Niente Quindi possiamo andare avanti 1v5 Da qui inizia la clip Ma potete Da prima Cioè Dopo Ma la potete Fa partita qua Perché diciamo che Vabbè Allora Allora Prima kill fatta Siamo su console Non l'abbiamo detto Ok Allora abbiamo un rinculo Bello pulito Ci sta Una mira Buona 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 Ci sta Ci sta Poi Si vede che usa molto L'abilità di Pulse Tanta roba Un attimo Signori Mi chiamano Un altro numero Da bloccare Che birbanti Scusate Andiamo avanti Nel frattempo Blocca il numero Blocca il numero Andiamo Ci siamo Il C4 Ah non l'ha bruciato Poco fa Il C4 Alla Che laghi Eh ragazzi Quando il signore risponde Voi Cioè quando il signore chiama Voi risponde Scusate Blocca Ok ok Lo vedo Molto Molto Concentrato Il ragazzo Con l'abilità di Pulse Non sta Panicando E' ramperato Su finestra Bravo Che ha visto Le cale Le clamor Ok Quello penso Stava pisciando Non lo so Ehm Il rank Il rank Il rank Il rank Eh C'ha Qua sono Interdetto Sono Interdetto Chat Che cazzo Di rank Eh Un operatore Alleato Rimasto Che rank Eh Mmm 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 Ma lo so Chat Eh Eh Io Non lo so Tra il platino Smeraldo Ultimo nemico Rimasto Mmm Vabbè Dai Do fiducia Metto Smeraldo L'avrei messo Platino Sinceramente Boom Allora Stavo quasi Per bestemmiare Mi si era ancora Caricata la schermata E mi si era messo Il champion A sinistra Stavo impazzendo Va bene Platino L'avrei indovinata L'avrei indovinata Però ho voluto Dare troppo Rinopino Ti ho voluto Dare troppo Vedi Male 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 Comunque ci sta Altri 500 punti Ce li siamo Impresi Purtroppo Dovevo seguire Il mio istinto Da rinoceronte Invece Sono stato Di più Un rinocerino Male male Però va bene Andiamo avanti Next Terza Clip R6 Il ritorno Abbiamo questo Bellissimo ragazzo Su console Contorn 1.5 Quindi Diciamo che È la stagione Un po' vecchiotta Prima kill Fatta dal tetto Seconda Guarda Mi ci pare di giocare I coglioni Ma mi sa che era morto Lì da quello Su basso Così Quindi Best moments Ok Ah Qua è il controllo Del rinculo Un po' male Dobbiamo anche Capire questo Ok Ci sta Io non l'avrei Cioè Di solito La caga Si fa Non si rompe Si va su Però Beh ci sta Sta cosa Che la rompe Ehm Allora Raga Io al momento Sono sull'oro Secondo me è oro Perché Sì Ok Però Non lo vedo Convinto Nel peak Ultimo nemico Rimasto No Secondo me è oro Sapete Allora Io metterò oro Se non mi fa qualcosa Qua di clamoroso Non lo so Gianluca Ragazzi Io Io vado col mio cuore Vedete Vedete Se avessi messo platino Avrei preso zero punti Invece ho messo oro Era argento Eh 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 Vai subito Eh platino Ehm smeraldo Eh Era argento Eh 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 Meno male ragazzi Che ho messo oro Qua ho preso un po' di punti Su di voi Minchia Uno ha azzeccato argento Bastardo Pezzo di cacca Andiamo avanti Con next Comunque grazie Per la clip Crilino Allora Ci siamo Alibi Siamo su console 3v4 Scammati Eba scammato A me no Mezzo Uh Potrebbe esserci Bravo bravo Bell prefire Ma e vabbè Allora il def 2v2 Quello sta impazzendo Il compagno Eh C'è anche dentro Aspetta L'angolo qua Viene verso scale Verso scale Arriva dalla porta Controlla del rinculo Qua male eh Abbiamo visto un po' Che si è perso Qui C'è la porta Vuole entrare dal rotation Allora il prefire Ci sta Il mirino Messo bene Quando esce Allora non è male Potremmo optare Per Non lo so Eh ragazzi Allora io metterò Metterò un rank Che secondo me è quello Ok Do proprio di cuore Champion Certo E do proprio col cuore Ragazzi 3 2 1 Secondo me ragazzi È platino Lillking 22 Lillking 22 Bene Allora Sicuramente ragazzi Poi Oh Raga Vediamo una clip Ok Poi magari È una bestia Devastante Eh In quella clip In questa clip Che abbiamo visto Secondo me Secondo me Era da platino Eh Perché Sì ok Ci stava Però il rinculo Così è così Ehm Però Oh Vabbè Ci sta ragazzi Ci ha distrutto Ci ha Paresemente devastato Annichilito Eh Lillking 22 GG Sono contento Che Tu sia champion Eh Vabbè Alla Che Ragazzi Che cazzo Pieno fa Eh Mi sa che è l'ultima No Penultima Ragazzi Sono ancora dispiaciuto Per quello che è appena successo Però Dove annacco Che cazzo Devo dire Alla Allora Uno morto Due morti Ah questo flick Molto carino 3 kill Finisce qua Ma questa era la clip Ok Allora Non sappiamo Se No è su Che cazzo è su console PC console Che cazzo è raga Eh ma io che cazzo Ne so cos'è Una clip Raga Difficile da capire Non so la PC Ma non lo so Raga Che cazzo è Che cazzo è PC Ok Raga Sono interdetto Non lo so È champion Ora metto champion Raga Ehm Oh mio dio Oh boom Ciao Basta Vedete Vedete Lil King 22 Tu mi hai distrutto Lil King 22 Mi ha devastato Mi ha blastato Ragazzi Io siccome Quel ragazzo Era champion Ho votato basso Stavolta ho votato alto Invece questo È bronzo Capite Oh comunque Siamo tutti stronzi Eh Non so Cioè io vedo sempre Un pisello qui Eh ogni volta che voto io Eh Pronto Pronto Oh ci poteva stare No 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 Allora ragazzi Allora Chat Tutti Perché ho visto che poco fa Vi stavate lamentando Chat Tutti quelli che mi inviano le clip Sono trackerati Ok Giovanni Vede l'account È tutto Quindi se quello era champion Era champion ragazzi Ok Eh quindi sono tutti trackerati Eh In teoria Eh Bronzo Io Vabbè ci No ci potrebbe stare Ci potrebbe stare anche Nel senso bronzo Eh Raga io vi ricordo che noi vediamo sempre Questa clip era un po' una merda Perché Raga era un po' Ingiudicabile Sta clip Perché 3 kill Così Cioè non è che capisci molto Quindi ci sta Sinceramente ragazzi Ciao Come va Sì Ci sta ragazzi E da questa Infatti l'ho detto Fin dall'inizio Sta clip è un po' una merda Cioè non si capisce Un cazzo Eh raga Oh all'acchio Eh raga Ma era la clip Era la clip Che non Come cazzo fai a capire Da un 3 kill Così Capite Non Un po' di fila Allora Allora vediamo Siamo con Rook Ha sentito uno con la granata Bravo Che è uscito in pre fire Ah sei Ricky Perché stai cambiato nome Allora Una kill ce l'abbiamo Siamo sul console Ok Briciano Con i coglioni Cubici Si fa un'altra kill Ok molto aggressivo eh 2v2 Ok 1v1 Vediamo Lo ha sentito Con la prossimità Sto analizzando Vittoria alfesa Raga Sono tra platino e smeraldo Oh poi magari oro Ragazzi Sto episodio è veramente Io metto smeraldo Boom Oh Una l'ho azzeccata Raga Una Una l'ho azzeccata Grazie Grazie Oh mio dio Almeno una Ragazzi Almeno una Che silver Silver trust Si è la marca Trust Ok raga Grazie Dreams Per la La clip Oh ok Raga Allora Abbiamo fatto schifo tutti però eh Io ho fatto schifo Però pure voi non è che siete stati bravi eh Se noi andiamo a vedere Io sono O io so primo A per i merito con Napoli E Antonio Ok Quindi ci sta Dai Allora sono stati due clip Sono state veramente devastanti Ci hanno veramente distrutto Però ok Comunque Io Mi impegnerò a portarne di più su youtube Ok Perché ogni volta lo dico ma poi mi scordo a registrarli Ok Mi impegnerò a portarne di più Non troppi perché Eh c'è un limite che si possono accettare al Al mese Però È una promessa Ok Fatemi sapere ovviamente però Fatemi vedere il supporto a questa serie su youtube Se no col cazzo E niente Ciao Ciao Ciao